Prima che mi dimentico lo metto all'inizio del video perché mentre registravo questo video me ne sono dimenticato Per comprare questo box nel link in descrizione troverete un codice sconto Che vi permetterà di portarvi a casa questo box a un prezzo veramente ridicolo Usatelo, buon proseguimento del video, ciao a tutti e grazie Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video Oggi andremo a recensire il t-box di Carlin Kit Come penserete? Vabbè l'ennesimo box si fa l'ennesima cosa sulla nostra macchina Sì è vero, però secondo me ad oggi è uno dei migliori sul mercato Perché dico questo? Perché lo scopriremo durante il video Quindi vi consiglio di seguire il video fino alla fine E inoltre un altro consiglio che vi do è di andare qui sotto in descrizione Cliccare sul link del canale Telegram Di iscrivervi al canale Telegram per ricevere tutte le novità riguardanti Android Auto Quindi tutti questi box per Android Auto, altri strumenti utili per Android Auto Magari applicazioni stesse per Android Auto E inoltre vi consiglio di iscrivervi al canale di YouTube Cliccando sul pulsantino rosso e iscriviti Detto ciò ritorniamo al t-box di Carlin Kit Prima di tutto vorrei parlarvi di Carlin Kit Carlin Kit è un'azienda non basata sul crowdfunding Quindi non troverete questo prodotto su Kickstarter o su Indiegogo Lo troverete esclusivamente sul loro sito Vi lascio qua sotto il link in descrizione per comprare questo prodotto Inoltre è un'azienda che ha sempre avuto a che fare con questi prodotti per le nostre auto Basti pensare che è una delle prime aziende che ha creato un dongle Per poter usare Apple CarPlay Apple CarPlay scusate In modalità wireless Quindi se siete interessati a usare Apple CarPlay Blah non riesco a dirlo ragazzi Apple CarPlay in modalità wireless Vi consiglio di comprare il loro dongle Magari vi lascio sempre qui sotto il link in descrizione Oppure potete acquistare direttamente questo box Box che potete acquistare con il mio codice promozionale Vi lascio il codice promozionale qui sotto in descrizione In modo tale da avere una percentuale di sconto sul prezzo totale di questo box Box che vi ripito secondo me è uno dei migliori disponibili al giorno d'oggi sul mercato Uno perché come vi dicevo prima non dovete aspettare che l'azienda che produce questo box Arrivi a un numero minimo di ordini per iniziare a produrlo Quindi voi state comprando un box già prodotto E in seguito vedremo per esempio per la fluidità del sistema Per la rapidità di avviamento del box eccetera eccetera Veramente è una cosa spettacolare Io non me la aspettavo così veloce Quindi sono rimasto stupito Come rimarrete stupiti voi quando lo vedrete in azione Ciancio alle bande ritorniamo al T-Box di Carlin Kit Come vedete naturalmente è un box basato su un sistema Android Full Android System Sì perché questo box avrà preinstallato il Play Store Da cui potete scaricare tutte le app possibili e immaginabili E potete che so installare YouTube come vedremo tra un po' YouTube Music, Spotify, Maps, Waze Direttamente su questo box senza dover usare il telefono Vediamo quindi cosa c'è nella scatola Poi faccio una scarrellata veloce di tutte le informazioni tecniche Dalla dimensione del prodotto eccetera eccetera Mentre il sistema si avvia così vediamo anche i tempi di accensione Quindi nella scatola che sarebbe questa qua Come vedete è una scatola zigrinata penso si dica Quindi abbastanza elegante, abbastanza resistente Che arriva avvolta in questo cartoncino Iniziamo un po' dalle cose meno importanti Troveremo un cavetto USB Type-C da inserire all'interno del box E all'altra estremità troveremo un cavetto USB normale Perché per esempio la mia macchina ha questo tipo di USB Però cosa succede se uno ha una macchina con l'USB Type-C? Nessun problema perché direttamente nella confezione Ne arriva un cavetto USB Type-C Tipo-C quindi l'estremità da inserire all'interno del box L'altra estremità da inserire all'interno della macchina Avremo inoltre un libretto di istruzioni Come vedrete qua è possibile inserire la SIM E la microSD ma questo lo vedremo tra un po' Il libretto di istruzioni che vi spiega come usarlo Purtroppo, e dico purtroppo Il libretto delle istruzioni è da un lato in inglese E dall'altro lato in cinese Però meglio di niente Basta semplicemente scaricarsi Google Traduttore sul telefono Con la fotocamera, inquadrare il libricino delle istruzioni Il gioco è fatto Ma fondamentalmente quello che andrò a dirvi in questo video È quello che è scritto su questo libricino qua E inoltre troviamo lui il pezzo più importante Certo non troveremo Jerry Pomodoro Ma troveremo lui il box Carlin Kit Un box che è comunque molto elegante Un po' più grande forse devo dire rispetto agli altri che ho recensito Tutto al più andatevi a vedere anche gli altri Perché anche gli altri sono box abbastanza interessanti E come vedete trattiene molto le impronte Quindi un consiglio che vi do è quello di posizionarlo nella vostra macchina Magari e non toccarlo se non vi piace vedere i dispositivi Con tutte le impronte appiccicate sopra Però è un dispositivo comunque molto compatto e molto elegante Sulla parte frontale abbiamo il microfono Perché con questo dispositivo è possibile per esempio effettuare delle chiamate O comunque è possibile collegarci il telefono E effettuare le chiamate tramite il telefono Comunque è possibile usare Google Now come assistente vocale Troveremo dei led Sulle due parti laterali non troviamo niente È pulito Sulla parte di dietro andando da sinistra verso destra Troviamo uno slot per la nano sim Sì perché qua se inseriamo una sim dati o comunque voce più dati Chi sia diventa un dispositivo stand alone Cosa significa un dispositivo stand alone? Significa che funziona senza l'ausilio del vostro telefono Quindi fondamentalmente come dicevo prima C'è il play store installato Installiamo Maps Accendiamo la macchina Il sistema parte in modo automatico E impostiamo la destinazione con Google Maps Senza dover usare il telefono Poi al centro troviamo un USB di tipo C Che appunto come vi dicevo prima serve per collegarlo alla macchina E a destra invece troviamo uno slot per la micro SD Per ampliare la memoria di questo box Memoria che è abbastanza ampia Perché come vedremo tra un po' lo troveremo in più configurazioni Sulla parte alta invece abbiamo fondamentalmente le prese d'aria Prese d'aria che permettono appunto un dissipamento del calore Non ci saranno ventoli quindi il raffreddamento è passivo E quindi non ci sarà alcun tipo di rumore Sulla parte inferiore invece cosa troviamo? Nulla, troviamo solamente alcune certificazioni Il modello del dispositivo che ricordo è un T-Box e altro Quindi come vi dicevo prima Ora lo vado ad attaccare alla macchina con il cavetto originale Che arriva insieme a Carling Kit T-Box E anche per vedere la qualità del cavetto Se riusciamo ad utilizzarlo senza problemi Vi faccio contemporaneamente all'accensione Una rapida scarrellata delle schede tecniche Perché veramente questo dispositivo è velocissimo ad accendersi Come vedrete da un po' Dispositivo collegato Ora inquadro lo schermo della macchina Più la cover diciamo della scatola È un'ottima da vedere i tempi di accensione Poi vi lascio sovraimpressione al video Il tempo di accensione calcolato precisamente Ecco come vedete il tempo che ho detto sta cosa Già è partito Quindi come vedete è veramente veloce Quindi ora leggiamo queste informazioni tecniche Sul retro della scatola Poi vediamo il sistema che come dicevo prima è già partito E questo è uno dei motivi per cui preferire questo box magari ad altri Allora prima di tutto Come vi ho detto prima abbiamo un box basato su Android Un sistema Android completo al 100% completo dei Play Store Un processore che è uno Snapdragon SDM450 Che garantisce delle buone prestazioni E permette al T-Box di girare senza problemi Poi abbiamo 4 GB di RAM più 64 GB di memoria interna Che è la configurazione attuale Quella è che io Ma lo troviamo anche con 128 GB Nel caso necessitiamo di più memoria interna Ma questo non è un problema perché possiamo inserire una micro SD Poi vabbè la lingua abbiamo diverse lingue Tutte quelle disponibili insomma su Android Poi abbiamo il GPS integrato Se usiamo delle applicazioni tipo Maps O altre applicazioni di navigazione Non è un problema perché userà il suo GPS O addirittura userà quello della macchina Nel caso la vostra macchina ne è dotata Ma al giorno d'oggi tutte le macchine penso abbiano un GPS Ma se non l'avete non vi preoccupate perché lui ce l'ha già integrato Supporta Android Auto Wireless Supporta anche Apple CarPlay Wireless Supporta la riproduzione anche di video Nel caso per esempio noi volessimo dire dei film che abbiamo salvati Sulla nostra micro SD Non ci sono problemi Inseriamo la micro SD all'interno del box E possiamo riprodurli senza alcun tipo di problema E da quest'altra parte invece vediamo cosa abbiamo Abbiamo vabbè connettività 4G Perché appunto come detto è possibile inserire un nano SIM Per rendere questo dispositivo stand alone indipendente dal telefono Micro SD, processore e cosa molto importante Permette anche il multi window Ora andiamo direttamente sullo schermo della nostra macchina Come vedete un'interfaccia abbastanza chiara e pulita Un menu, un drawer con tutte le app che abbiamo installato al momento E ne ho installate alcune di prova Abbiamo anche un widget in questo caso Per accedere molto rapidamente alla musica che sta riproducendo questo box Con i tasti play, avanti e indietro Al momento dice not playing Perché non c'è niente in riproduzione Ma dopo che andremo a riprodurre la musica Vedremo che uscirà il nome della musica Compresa l'icona dell'album Una barra laterale a sinistra Dove ci indica l'orario Il collegamento wifi, bluetooth E le applicazioni usate più recentemente Più un tastino che ci ripermette di ritornare al drawer Nel caso fossimo all'interno di un'applicazione Questo è un po' quello che riguarda l'interfaccia grafica Ripeto, molto pulita, molto semplice da utilizzare Prima di tutto andiamo a vedere nelle impostazioni Che vi faccio vedere In questo caso io ce l'ho in inglese Ma è possibile settare senza problemi la lingua In italiano vi faccio vedere che stiamo parlando di un dispositivo Android a tutti gli effetti Questa è l'interfaccia grafica delle impostazioni Sulla maggior parte dei dispositivi che montano Android stock Quindi Android tipo i pixel per esempio Per esempio in questo caso network internet È possibile andare a gestire il collegamento wifi Addirittura la rete della nostra sim Io in questo caso non ho inserito una sim Perché non ho una sim da inserire in questo dispositivo Che faccio? Non lo posso usare Non lo posso collegare col wifi Quindi che faccio? Mi faccio da hotspot con il telefono E così sto collegando Connesso Quindi come vedete si è collegato con una facilità E con una velocità impressionante Come vedete c'è anche la tendina classica Quella di Android che si abbassa Facendo uno swipe dall'alto verso il basso Con tutti i toggle disponibili Vi faccio vedere addirittura che stiamo parlando di un sistema Android 9 Eccolo qua E poi abbiamo anche una voce che si chiama AutoKit T-Box Settings Che permette di andare a configurare alcune cose Tipo Navigation App Setup Quindi scegliere l'applicazione per la navigazione L'applicazione che deve partire per il voice assist Quindi quando premiamo per esempio il pulsante dei comandi vocali sul nostro volante E poi altre cose che servono fondamentalmente per segnalare problemi al produttore Nel caso ne avessimo Io fino ad oggi non ho avuto alcun tipo di problemi Sarà tipo un mesetto che lo uso ma non ho alcun tipo di problema Tra le varie app preinstallate troviamo messaggi per esempio Piafone Che come vi dicevo prima installando una sim sia voci sia date all'interno del T-Box Possiamo usarlo anche per chiamare e mandare messaggi direttamente dalla macchina Poi abbiamo BTphone che è un'applicazione che ci permette di collegare il telefono talmente Bluetooth A questo scatolotto in modo tale che possiamo usare il telefono per fare le chiamate Poi abbiamo questo tastino home che se lo premiamo ci va sul sistema della macchina E come vedete questo è importante anche se è un sistema operativo basato su Android Viene riconosciuto come Apple CarPlay Ma questo non vi deve spaventare state tranquilli che comunque stiamo parlando di un box con un sistema operativo Android Vi faccio vedere insomma un po' come girano tutte quante le app Poi vi apro il Play Store per farvi vedere che si apre senza problemi E' possibile cercare le app che vogliamo E' possibile anche installare tutti quanti i giochi che vogliamo Per esempio abbiamo Clash Royale A mio modo l'ho scritto un po' male Però è possibile installare Clash Royale senza problemi e giocarci senza problemi Io sinceramente non l'ho installato perché sinceramente non gioco in macchina Vi apro per esempio Waze per farvi vedere anche Waze La comodità di utilizzo Funziona molto bene La mia macchina non supporta il multitouch Quindi non posso fare il pinch to zoom Ma se la vostra macchina supporta il multitouch è possibile farlo Ma questo non penalizza questo box Perché non è un limite del box ma è un limite in questo caso Nella mia macchina ma vi posso dire che le indicazioni GPS sono veramente precise Poi come vedete ho installato anche VLC per riprodurre video Come vi dicevo prima per esempio utile per riprodurre video Film che mettete direttamente sulla microSD che inserirete dentro il box Poi Netflix io purtroppo non me lo posso far vedere perché in questo momento non posso fare il login su questo box Perché ho superato il limite di dispositivi che è possibile collegare a Netflix Ma sicuramente girerà senza problemi Poi praticamente YouTube E come vedete l'app originale YouTube Quello ufficiale scaricabile dal Play Store Effettuiamo anche una ricerca giusto per farvi vedere che non ci sono problemi Per esempio scriviamo Android Auto & More Dovrebbe uscire il mio canale Non esce ma non fa niente Riproduciamo un video a caso In questo caso di Andrea Galeazzi Anche per farvi sentire come l'audio esce dalle casse della macchina Poi giustamente le pubblicità devono uscire Ogni volta che giro dei video Possiamo schippare Ecco qua Ok perfetto Quindi stoppiamo questo video Anche perché Andrea Galeazzi ha aperto combinazioni di un video Che parla della concorrenza Non so che box sia Se volete ve lo recensisco Fatemelo sapere qui sotto Nei commenti Come vedete È proprio l'interfaccia grafica di YouTube Quindi i video vi rimangono là sotto Vi faccio vedere ora come funziona per esempio YouTube Music Veramente quando per sentire la musica Quindi io come vedete Già stavo riproducendo una canzone Ok Magari abbasso un po' la voce Mi faccio sentire giusto un paio di secondi la canzone Ok Perché altrimenti poi YouTube Mi blocca il video per motivi di copyright Come dicevo prima Quando riproduciamo Una canzone Il video si aggiorna Mi permetterà di fare play Pausa Avanti Indietro Eccetera eccetera Quindi vi ho detto un po' tutte Ecco BT Music è l'app che vi permette di sentire Praticamente la musica È il vostro telefono Tramite questo dongle Autokit Permette di collegare in modalità wireless Sia Android Auto E sia Apple CarPlay Come vedete Quando le app partono a schermi in tiro Esce questo pallino Che è possibile premere Per ritornare alla home Comunque andare indietro Quindi per esempio andiamo nelle impostazioni Così vi faccio vedere anche il tastino indietro Ecco Entro per esempio qua in apps and notifications Clicco il tastino Vado indietro E lui mi va indietro Esattamente come su Android Abbiamo il tastino del multitasking Per poter chiudere o aprire le app appunto Che girano in background su questo tbox Esattamente come su un sistema operativo Android Tastino per far partire i comandi vocali Quindi per esempio lo premio qua Scusate Premio questo Che tempo fa a Bari oggi? A Bari oggi ci sarà pioggia Con una massima di 17 gradi E una minima di 9 Sperando inizia a piovere dubbio Al momento ci sono 16 gradi Ok Google grazie Ti può stare un po' zitto Comandi vocali Che partono anche premendo il tastino sul volante Spero che riuscite a vedere Quindi ora io lo primo E partono i comandi vocali Sul tbox Ora lo stop Tanto funziona allo stesso modo Abbiamo poi la galleria per vedere le immagini E tra questi pulsanti Abbiamo anche il tastino del multi window Comodissimo Perché per esempio Possiamo decidere di avere Maps Ok Waze In questo caso YouTube Music Quindi fondamentalmente Io posso riprodurre la musica E usare il navigatore Contemporaneamente Senza stare a switchare tra le due app Ogni volta magari che voglio cambiare la musica O voglio vedere La strada che devo fare Premendo questo tasto Naturalmente posso chiudere il multi window Posso ritornare al menu principale Ho il tastino per pulire la memoria Quindi rendere più reattivo il box E poi il tastino per ritornare al sistema Della macchina Per qualsiasi tipo di informazione Riguardante il tbox Quindi che so Per esempio Tempi di spedizione O prezzi O configurazioni varie Vi lascio il link qui sotto In descrizione Per andare direttamente sul sito del produttore Se invece avete altre domande Su cosa è possibile fare Cosa non è possibile fare Se volete un confronto Tra tutti i box Che ho provato fino ad oggi Perché sono veramente Un bel po' Magari Uno può avere le idee Più confuse Fatemelo sapere Che farò un mega confrontone Di tutti questi box E cos'altro dirvi Credo più niente Come al solito Ricordatevi di lasciare un mi piace al video Iscrivervi al canale YouTube E anche al canale Telegram Grazie mille per aver visto E seguito anche questo video Ci becchiamo nel prossimo video Nel prossimo video Recensirò un prodotto Per avere più prise USB E addirittura Una prisa Per ricaricare il computer O collegarci un mini frigo Senza andare a modificare L'impianto elettrico Della vostra macchina Ciao